il possibile ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino, il gesto che ha acceso le speranze dei fan. Prima di avviare il video, ti chiedo di premere il pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Grazie. Sono trascorsi oltre dieci anni dall'ormai celebre scandalo che coinvolse Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La cantante salentina era legata al ballerino napoletano da tre anni, quando quest'ultimo si innamorò della showgirl l'Argentina, dando vita a un triangolo amoroso nato inizialmente tra amici e che poi infiammò la cronaca rosa. Nonostante la complicata rottura, Emma e De Martino non si sono mai rassegnati, quasi a ricordare il celebre caso di Brad Pitt e Jennifer Aniston. La fine della loro relazione è stata oggetto di grande attenzione mediatica, con molte persone che non hanno visto di buon occhio l'avvicinamento di De Martino a Belen. Tuttavia, nel corso degli anni, i due sono riusciti a trovare un equilibrio e sembra che Emma Marrone abbia dimenticato e perdonato quel passato tumultuoso. Recentemente, un dettaglio a riaccende le speranze dei fan riguardo a un possibile ritorno di fiamma tra Emma e Stefano. De Martino ha condiviso su Instagram una foto in primo piano del suo viso durante le prove del suo nuovo show serale da Natale a Santo Stefano. Ciò che ha mandato in visibilio i fan è stato il like di Emma Marrone, apparso tra i primi cuoricini. Ora tutti si chiedono se si tratti di un gesto amichevole o se possa nascondere qualcosa di più. Al momento, sia Emma che Stefano non hanno rilasciato dichiarazioni dirette in merito, mantenendo il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.